Dunque, quindi io intanto comincio presentandomi. Io sono Paolo Bruschi, sono un professore che svolge attività didattica e anche di ricerca prevalentemente nel settore dell'elettronica. Ecco, questa prima slide che poi riproteterò anche alla fine, ci trovate alcuni nominativi, diciamo così, che rivestono dei ruoli istituzionali e presidente, che è il professor Sergio Saponara. Poi ci sono io che ho anche il ruolo di vicepresidente e per quanto riguarda l'orientamento il professor Giovanni Basso. Sul basso, diciamo, qui in basso trovate le email, gli indirizzi email di ciascuno di noi. Dunque, allora intanto andiamo a iniziare e inizierei con quelli che sono in qualche modo i contenuti che sono stati già impartiti a voi nelle lauree triennali. Dunque, la laurea triennale di riferimento per la magistrale in ingegneria elettronica è la laurea in ingegneria elettronica triennale, che vi consente di accedere al percorso magistrale senza debiti. Quindi non occorre sostenere esami aggiuntivi. Diciamo, cosa si vede in questo disegno? Quello che vediamo è fondamentalmente un po' una, diciamo così, una gerarchia di contenuti. Quindi abbiamo sul guscio più esterno, abbiamo i contenuti che costituiscono la base dell'elettronica, ma anche della maggioranza delle discipline dell'energia, quindi la fisica, la matematica e la chimica. Quelli che hanno seguito una laurea triennale in ingegneria elettronica in qualche modo hanno già costruito questo bagaglio di competenze, quindi non è necessario approfondirlo ulteriormente. Poi vi sono altre competenze che vi sono già stati in qualche modo impartite e riguardo le telecomunicazioni, l'informatica, l'automazione, avete avuto sicuramente dei corsi di automatica, l'energia, quindi in qualche modo gestione di motori, il trasferimento dell'energia e quant'altro. Diciamo, all'interno di tutto questo c'è un sotto insieme che è quello dell'elettronica. E cosa avete imparato? Io naturalmente faccio riferimento a uno studente che ha seguito la nostra laurea triennale che adesso sta decidendo se vuole proseguire o non proseguire lungo lo stesso percorso. Diciamo, all'interno di questo pacchetto di elettronica voi avrete imparato sicuramente, diciamo, cosa sono i componenti, come si analizzano circuiti, i sistemi, la loro stabilità e in qualche modo, diciamo, questione anche più importante, quelle che sono le metodologie e il linguaggio dell'ingegnere elettronico. Quindi, per esempio, metodologie, l'analisi di piccolo segnale, l'analisi in frequenza, eccetera. Quindi questi sono dei contenuti molto importanti che avete già acquisito. e però quello che è importante sottolineare è che non deve passare per la testa di uno studente che ha già intrapreso il percorso in elettronica con la laurea triennale di avere le competenze per essere effettivamente, anche se il nome glielo consente, poi il titolo c'è scritto ingegnere, diciamo, laureato in ingegneria elettronica anche con la triennale, però in realtà, diciamo, il bello comincia adesso, comincia con la magistrale. E quindi, e naturalmente le prossime slide vi faranno capire come mai, insomma, è importante seguire un corso specifico all'interno dell'elettronica per creare effettivamente questa figura professionale. Va detto che è possibile accedere alla laurea magistrale in ingegneria elettronica anche attraverso la lauree triennali, particolare quelle del settore dell'informazione, come ingegneria biomedica, ingegneria del telecomunicazione, ingegneria informatica, dovendo sostenere un piccolo numero di esami aggiuntivi e quindi alla fine poi il saldo non è tanto negativo, in quanto molto spesso voi avete già, diciamo gli studenti che hanno una laurea in biomedico, telecomunicazione, eccetera, spesso hanno dei corsi che per noi possono essere usati, per esempio, per coprire i crediti a scelta, quindi alla fine qualcosa vi verrebbe assegnato, qualcosa vi viene tolto. Non si va di solito come debito oltre ai 12 CFU, è per queste lauree naturalmente, le lauree, diciamo, più del settore, dell'ingegneria dell'informazione. Allora, intanto quindi qual è l'obiettivo della laurea magistrale? Abbiamo detto, se avete una laurea in ingegneria elettronica triennale, praticamente sapete poco dell'elettronica. Avete costruito le basi, una bella base solida per capire tutto, ma bisogna adesso rimboccarsi le maniche. Allora, l'obiettivo è costruire in qualche modo l'ingegnere elettronico. Questa è una figura professionale che, come altre naturalmente, comunque, diciamo, è unica e insostituibile. Il, diciamo, lo capiamo perché, lo capiamo dalle competenze che questa, diciamo, questa figura professionale deve, su cui si deve basare. E innanzitutto, passando dalla triennale alla magistrale, dobbiamo cambiare prospettiva. Quindi, diciamo, la laurea triennale è stata impostata prevalentemente all'analisi. A questo punto noi dobbiamo imparare a progettare, quindi dobbiamo passare alla sintesi dei circuiti, perché è questo che poi viene chiesto all'ingegnere elettronico. Inoltre, bisogna espandere la conoscenza verso dei campi più specifici, e non più di tipo generale. E in particolare cosa? Dobbiamo imparare come si progettano i circuiti integrati, quindi dobbiamo andare a ragionare con circuiti cui blocchi elementari, componenti elementari, sono di dimensioni micrometriche, ormai nanometriche, come sapete bene. Occorre progettare circuiti veloci, imparare quindi a lavorare e in qualche modo analizzare, ma simulare, progettare circuiti che hanno frequenze di lavoro dell'ordine di gigahertz, ormai si fa sfiorare i terahertz. E naturalmente bisogna anche imparare a gestire sistemi molto complessi, progettando in parallelo l'hardware e il software che in qualche modo andrà a gestire le varie funzionalità. E dovremmo anche andare un pochino oltre l'elettronica, come sapete sui circuiti integrati, probabilmente lo sapete, insomma è una questione abbastanza anche di cultura generale, sui circuiti integrati, quindi su substrati di silicio, è possibile realizzare anche sistemi microelettromeccanici. L'accelerometro che avete sui vostri cellulari, che quando girate il cellulare si accorge che ha un orientamento diverso e vi ruota anche lo schermo, questa operazione viene effettuata leggendo i segnali che arrivano da un accelerometro, che legge la direzione dell'accelerazione di gravità. LabonChip, quindi circuiti che sono in grado di effettuare addirittura delle operazioni di amplificazione del DNA, quindi questi sistemi che adesso vanno piuttosto di moda perché sono utilizzati per esempio per l'analisi dei tamponi, per la ricerca del virus del Covid-19. E quindi i biosensori e i dispositivi quantistici, quindi anche per il semplice fatto che ormai date le dimensioni, abbiamo visto, nel numero dei nanometri, i dispositivi diciamo in qualche modo funzionano con principi che non possono fare a meno di competenze di meccanica quantistica. Ecco quindi questo, vedete, di tutto questo la triennale avete acquisito ben poco, è necessario in qualche modo andare a crearlo. Dunque, vabbè, abbiamo anche, un altro argomento molto caldo, molto di moda, è quello dei veicoli autonomi, veicoli elettrici che hanno al loro interno una quantità di elettronica che ormai come valore tende a superare tutto il resto dell'autovettura. Vediamo un pochino come è organizzato il nostro piano formativo, qui vedete il primo anno, tutti gli esami che vedete in questa slide sono esami obbligatori. Quindi voi avete in qualche modo, vedete questo nucleo centrale, quindi da qui a qui sono tutti esami specifici di elettronica. Quindi abbiamo elettronica analogica, un'elettronica delle telecomunicazioni, non c'è sovrapposizione, uno dice ma io faccio tutta questa elettronica, ma tanto è sempre la solita, ma no, sono cose completamente diverse. Le metodologie sono diverse, non le conoscete, per elettronica delle telecomunicazioni non si usano più i parametri ibridi che avete imparato un po' già a usare, alla laurea triennale bisogna utilizzare le matrici di scattering, quindi parametri di scattering, eccetera. Quindi sono tutti concetti completamente diversi. Il diciamo elettronica di potenza e di controllo, questo corso l'abbiamo aumentato di tre crediti proprio nell'ultimo anno perché ci crediamo tantissimo, perché ce lo chiedono tantissimo le aziende. Progettazione di sistemi microelettronici dove in qualche modo si insegna a progettare i circuiti integrati. Quando ho detto l'ingegnere elettronico è una figura unica, significa anche questo, per esempio per quanto riguarda i circuiti integrati è l'unica figura professionale che è in grado di svolgere questi compiti. Tecnologie microelettroniche, tecniche con cui si sviluppano, si realizzano i circuiti integrati e qui usciamo un attimo dall'ambito dell'elettronica, le telecomunicazioni, quindi imparare le varie tecniche, di modulazione prevalentemente ormai digitali che ci portano ad ascoltare la radio digitale, la radio DAB, in qualche modo a visualizzare le immagini e anche in qualche modo riprodurre l'audio all'interno di televisori, eccetera. Quindi questo è un, diciamo, naturalmente anche trasmissione dati, ovviamente trasmissione dati che tra il vostro cellulare e le stazioni base e infine la rete internet. Campi elettromagnetici, ovviamente non si può fare a meno neanche di considerare questo aspetto in quanto i campi elettromagnetici spesso lavorano, ci aiutano, lavorano a nostro favore quando dobbiamo trasmettere le informazioni in modalità wireless. diventano invece un problema quando si manifestano sotto forma di interferenza che tende a disturbare il comportamento dei nostri circuiti, quando naturalmente questa interazione con i campi elettromagnetici non è evoluta. Quindi è importantissimo farsi una bella base anche di questo tipo. Questi sono tutti esami obbligatori, per quanto riguarda il secondo anno abbiamo altri due esami obbligatori, progettazione di sensori microsistemi dove si insegna a progettare praticamente quasi tutte le tipologie di sensori e in particolar modo quei sensori di cui abbiamo parlato prima, quindi quei sensori che vanno a essere integrati su substrati di silicio proprio come i circuiti elettronici. Ecco, quello che ho indicato qui in verde invece riguarda dei crediti, dei CFU, che sono altamente personalizzabili. Noi abbiamo degli indirizzi, vi li faccio vedere nella prossima slide, il totale sono 15 CFU e voi potete scegliere l'indirizzo che vi sembra più interessante per la vostra formazione. Abbiamo anche degli esami liberi a scelta, 9 crediti, anche questi che possono essere sfruttati. Infine la tesi, ovviamente anche questa, si possono scegliere argomenti diversi tra quelli che mettono a disposizione i docenti oppure anche privati, perché molti dei nostri studenti vanno a svolgere tesi anche in ambito privato all'interno di aziende, attualmente ho tre tesisti che sono in azienda. Dunque, vi è anche la possibilità di, alla fine del percorso della laurea magistrale in ingegneria elettronica, di acquisire, a seconda degli esami che avete scelto, poi questo vi verrebbe spiegato, non è un problema, potete acquisire anche un diploma che certifica il vostro percorso come un percorso compatibile con l'industria 4.0. Quindi questo è un piccolo titolo in più, se qualcuno di voi è interessato poi lo andrà a valutare. Bene, adesso diciamo gli indirizzi, abbiamo, sono quattro indirizzi. Il primo è dedicato prevalentemente ai sistemi di acquisizione dati dal mondo esterno, quindi i sistemi che leggono i sensori. È fondamentale, un sistema elettronico deve parlare con il mondo esterno, altrimenti non serve a nulla. È un piccolo giocattolo in gadget. Quindi per poter esserci veramente utile deve andare a leggere segnali dal mondo fisico e questo lo fa attraverso i sensori. Quindi qui viene spiegato sia praticamente come sono costituiti questi sistemi sensoriali e poi nel corso di progettazione Mixer Signal come si progettano i circuiti per il processing, la lettura dei sensori e per il processing dei dati. Quindi questo è il primo indirizzo. Secondo indirizzo è l'indirizzo Embedded System. Sapete cos'è l'Embedded System? Ovunque voi vi rigiriate, aprite un oggetto più banale che potrebbe essere anche, che ne so, il lampeggiatore per le luci dell'albero di Natale. Anche lì dentro c'è un chip, c'è un circuito integrato Embedded perché voi non lo vedete, non è come il computer che avete davanti agli occhi. È infilato, Embedded significa questo, è dentro altri oggetti che spesso non ve lo immaginate neanche che abbiano dispositivi di questo tipo. Ecco, quindi questi sono i sistemi che trovate a bizzef all'interno dell'automobile, all'interno di un aereo. Sono fondamentali per le funzioni di questi sistemi importantissimi per la società, eccetera. E a questo punto voi andate anche qui ad acquisire 15 crediti, vedete, con un corso proprio dedicato ai sistemi Embedded e un sistema che, cioè un corso legato più ai sistemi meccatronici. Quindi come questi circuiti poi vengono inseriti all'interno di sistemi misti, meccanici e elettronici. Il, diciamo, un terzo curriculum dedicato completamente a quello che è il problema della trasmissione di dati attraverso tecniche wireless. Quindi attraverso tecniche radio, bluetooth, wifi, ma non solo questi, diciamo anche protocolli che vengono sviluppati e verranno sviluppati in futuro per in qualche modo soddisfare le diverse caratteristiche di consumo di potenza, quindi sistemi a ridottissimo consumo di potenza oppure per velocità di dati sempre maggiori. Quindi questo è il nostro terzo curriculum. E il quarto, che si chiama Physical Electronics, è dedicato soprattutto ai dispositivi. E quindi, diciamo, dispositivi moderni, memorie, dispositivi così, che hanno proprio una meccanica quantistica come principio di base di funzionamento. Detto questo, vedete questi corsi che ho indicato con queste freccine che ho fatto comparire. Questi corsi sono corsi da nove crediti che si trovano dentro i vari indirizzi, ma è possibile utilizzarli anche come crediti a scelta. Quindi, per esempio, se uno studente scegliesse il primo curriculum Senso System Engineering, potrebbe completare la propria preparazione inserendo, per esempio, un corso, questo è un esempio, poi la fantasia vi permette di realizzare le combinazioni che volete, puoi inserire un corso di circuiti integrati wireless. Così aggiunge a quelle che sono praticamente le tecniche dei circuiti integrati in banda base, che servono per sensori, anche i circuiti integrati che servono per la trasmissione dei dati. E naturalmente poi sono possibili anche tutti gli altri incroci. Dunque, dove trova lavoro l'ingegnere elettronico? Allora ci sono molte aziende, anche in Italia e anche nel nostro territorio, che sviluppano sistemi interamente elettronici. Possiamo considerare un cellulare, un sistema completamente elettronico, un computer. Di queste ce ne sono tante. Queste hanno tutte almeno una sede, oppure hanno addirittura la sede principale in Italia, come Settimac Electronics, Apple. Abbiamo un design center di un centinaio di dipendenti da Apple, che si trova a Livorno. Quindi qui vicino, moltissimi nostri studenti, forse la maggioranza sono i loro dipendenti, e sviluppano circuiti integrati proprio per la Apple. Quei circuiti che poi vengono inseriti all'interno dei cellulari. Ce ne sono altre, non ve le leggo, voglio andare un pochino più veloce, perché il tempo è quello che abbiamo. Oppure ci sono altre aziende, guardate qui vi voglio, anche se perdo del tempo, voglio raccontarvi un piccolissimo aneddoto. Quando io mi sono scritto in ingegneria elettronica tanti anni fa, mio padre non era per niente contento. Perché? Perché io avevo uno zio che lavorava in ambito nucleare. Ha detto, laureati in ingegneria nucleare così lui ti trova al lavoro. Ha smesso di, sono passati due anni, due anni diciamo del mio percorso di laurea in cui mio padre continuamente cercava, faceva questa specie di stalking, e si è quietato quando mio zio ha detto, sì io lavoro in una società diciamo così in ambito nucleare, ma sono più gli elettronici che gli ingegneri nucleari o meccanici che lavorano nella mia azienda, allora si è calmato. Questo cosa vuol dire? Ci sono tante aziende, per esempio queste che vedete qui, nell'automotive, diciamo nei sistemi di difesa, nell'automazione industriale, che non sviluppano esclusivamente sistemi elettronici, l'automobile non è esclusivamente elettronica, ma hanno una necessità enorme di sistemi elettronici e quindi diciamo assumono regolarmente ingegneri elettronici. Ci sono anche enti, diciamo che italiani, ma non solo, che in qualche modo si dedicano, si occupano prevalentemente di ricerca. Guardate, ho sottolineato, non perché è più importante, questo ultimo leggo, probabilmente molti di voi lo conoscono, European Gravitational Observer, che si trova qui a Cascina, e quindi quello è uno dei laboratori che ha scoperto, ha registrato per la prima volta le onde gravitazionali, non so se vi ricordate il batage televisivo che è avvenuto. Ebbene, diciamo, anche da questo consorzio, dove lavorano prevalentemente fisici, ci chiedono ingegneri elettronici, proprio uno degli ultimi tesisti che mi si è laureato ha fatto una tesi all'interno di Ego. Quindi sono, diciamo, le possibilità di lavoro sono praticamente infinite per quanto riguarda l'ingegnere elettronico, è estremamente richiesto, avrete visto in televisione il grosso problema che stanno avendo, per esempio, i produttori di auto, perché mancano i circuiti integrati, non ne vengono prodotti abbastanza, questo per capire quanto è importante l'elettronica. E poi anche imprenditori, molti nostri laureati poi, che hanno questo spirito, questi skill, sono andati a creare delle piccole imprese che stanno anche, in alcuni casi, anche diventando grandi. Ok, qui, questa è soltanto un'immagine per farvi capire nel territorio quanti, diciamo, quante aziende o centri di ricerca abbiamo che sono interessati, diciamo, in qualche modo ad assumere ingegneri elettronici. Allora, molto, guardate, bisogna che vado un po' veloce, perché ho visto che l'orario è quello che è. Volevo farvi capire, ecco, di cosa si occupa l'ingegnere elettronico. L'ingegnere elettronico si occupa dei sistemi elettronici. Questi sistemi elettronici sono costituiti da tante parti, tante parti distinte. Vedete, abbiamo i sensori e gli attuatori che ci permettono di interagire con il mondo esterno. Questi necessitano dei circuiti elettronici di interfaccia o di pilotaggio. E i dati che escono da questi circuiti, diciamo, in modalità rosa, devono essere, in qualche modo, elaborati in ambito digitale. E anche qui avremo dei sistemi elettronici, microprocessori, micocontrollori, logiche programmabili. E dobbiamo, naturalmente ci sono anche varie operazioni che richiedono delle periferiche, come per esempio il salvataggio dei dati nelle memorie flash. Ok? Oppure la trasmissione dei dati, no? Quindi è necessario codificare i dati, inviarli su un layer fisico, sarebbe un filo, sarebbe la, in qualche modo, lettere, no? Come si chiamava una volta, quindi la trasmissione attraverso onde elettromagnetiche, eccetera. Quindi questi sono, in qualche modo, gli elementi di un circuito elettronico. Si cerca il più possibile di raccogliere tutte queste funzioni in sistemi che siano i più piccoli possibili. Quindi, per esempio, sistemi che utilizzano un singolo chip. Dentro un chip ci può finire tutto questo, anche i sensori, come vi avevo detto. Oppure sistemi in package, cioè voi aprite il package, che dal di fuori sembra un oggetto unico, e dentro ci trovate tanti chip di silicio. Però per l'utilizzatore è comodissimo avere questo oggetto molto piccolo, che è il package, che con i piedini ci si collega e ha accesso a tutte queste funzioni estremamente complesse. Diciamo, per capire un pochino quei corsi laurea, quei corsi, scusate, quegli insegnamenti che vi ho fatto vedere, come si collocano all'interno della progettazione di un circuito elettronico, se partiamo dai sensori e agli attuatori, vedete questa prima parte che ho illuminato, e noi abbiamo due corsi, progettazione di sensori e microsistemi, in cui si insegna proprio attraverso delle tecniche anche CAD, quindi simulatori termici, elettromeccanici, fluido-dinamici, si insegna la progettazione di questi sistemi. Qui vedete una fotografia, ne potete trovare quante ne volete su internet, questo era un accelerometro angolare, del prodotto da, mi pare, ST Marketronics, ma non sono sicuro. Quindi andare a progettare questi oggetti e poi farli fabbricare su silicio. Abbiamo un corso, per quelli che sono particolarmente appassionati a questo modo, che però fa parte di un indirizzo, quindi l'ho segnato in verde, niente male. Qui vedete tutta questa parte qui, qui abbiamo tanti oggetti. L'interfaccia che mi si collega al sensore, quindi legge il sensore, converte dati in digitali. Oppure i sistemi di potenza che mi vanno a pilotare gli attuatori, microprocessori, microprocessori per l'analisi, l'elaborazione dei dati in digitale, le memorie. Ecco, tutto questo verte intorno al circuito integrato, che è un pochino il nostro mondo. Questo è il nostro mondo dove difficilmente ci può scalzare qualcuno. E quello che vedete qui sulla sinistra è un circuito integrato che stiamo sviluppando proprio all'interno dei nostri laboratori. Ci hanno lavorato molti ragazzi nelle tesi. Alcuni di questi blocchettini sono proprio il lavoro dei vostri colleghi che hanno effettuato quando hanno iniziato la tesi. Invece sulla destra vedete quella che è la struttura di una memoria flash, ormai comunissima, tridimensionale. Cioè questo è il piano del substrato, vedete, i dati sono in qualche modo registrati in questi, che sembrano delle specie di pozzi che vanno in profondità e ciascuno di questi piani mi rappresenta un bit. Quindi questi sono aspetti che vengono in qualche modo coperti molto molto bene. Vedete quanti esami qui, ce ne sono alcuni nel flusso principale e poi abbiamo dei corsi in qualche modo di cui ho già parlato prima per la specializzazione. Tra l'altro, per esempio, se uno studente fosse in qualche modo orientato a imparare il più possibile dei circuiti, dei sistemi su chip, quindi dei circuiti integrati, può sostenere tutti questi esami, quelli obbligatori ovviamente, alcuni fanno parte di un indirizzo, alcuni diciamo di altri indirizzi, ma naturalmente vi ho fatto vedere prima che sfruttando i crediti a scelta si può effettuare una ulteriore personalizzazione. Va bene, qui abbiamo parlato prima di sistemi di automazione che trovano spazio dentro l'automobile, ma dentro tutte le industrie, veicoli spaziali. Diciamo che qui abbiamo dei bei corsi come il corso di elettronica analogica e il corso di elettronica di potenza e di controllo. Il mondo digitale non è che noi non lo consideriamo, anzi è di importanza fondamentale. Abbiamo visto, avete un corso di progettazione dei circuiti digitali, avete sistemi embedded, di cui vi ho già parlato, progettazione dei sistemi meccatronici, di cui vi ho già parlato. Infine, ultimo aspetto, di cui abbiamo parlato prima, è in qualche modo la trasmissione dei dati. Occorre comunicare, il sistema elettronico deve comunicare, se no al solito non serve a nulla. Tutte queste funzioni devono essere presenti e in questo caso abbiamo anche qui un bel pacchetto di corsi che avete visto già prima. Telecomunicazioni, campi elettromagnetici, elettronica delle telecomunicazioni e poi naturalmente per quelli che vogliono specializzarsi in questo settore abbiamo anche esami all'interno di un indirizzo. D'accordo, io in qualche modo avrei concluso, qui come vi avevo detto vi riproietto la prima slide dove ci trovate i contatti e spero arrivi qualche domanda. C'è una domanda che è un partecipante, è anonimo quindi non posso chiedere, ma chiede quanti sono i media gli iscritti alla magistrale di elettronica. Una quarantina, non so se mi sente. Sì, sì, ti sento. Anzi, con lui 41. Un po' di più qualche volta, no, qualche volta 45 dipende, 40, 45. Pelo meno quelli che abbiamo in aula, quelli che vediamo in aula al primo anno. C'è una domanda da parte di Gabriele un po' più impegnativa che chiede che cos'è l'Internet of Things. Eh, bella domanda, guarda, questa è una bella domanda. È tutto, ormai con questo termine indicano quasi tutto. Comunque in generale cosa significa? Sarebbe, diciamo, in qualche modo quel mondo in cui ogni oggetto che viene in qualche modo prodotto e acquistato ha in qualche modo la possibilità di figurare all'interno della rete, della rete Internet. Per esempio, quando vengono prodotti, diciamo, dei pezzi meccanici, per esempio, a livello industriale, ormai sempre più spesso vengono inseriti cosiddetti dei tag, quindi dei sistemi in grado di comunicare attraverso onde elettromagnetiche, i quali in qualche modo poi, una volta che sono entrati in interazione con un reader, comunicano, diciamo, generalmente solo un codice, quello che dicono io sono il pezzo tal dei tali. Molte volte è possibile anche aggiungere qualche dato che può essere, può venire da qualche sensore, per esempio, che caratterizzano, in qualche modo le indicazioni sul processo, se ci sono stati dei problemi con il ciclo di temperatura, eccetera. Le macchine, la macchina del caffè, l'avete visto, avete visto le pubblicità recentemente, probabilmente, che parlano con l'utente, un po' Alexa e altri oggetti. Quindi oggetti che fino a, diciamo, a qualche anno fa erano oggetti che tutto si poteva dire, tranne che potevano in qualche modo apparire, essere controllati attraverso Internet, adesso invece stanno sempre di più andando in questa direzione. Quindi questo è un pochino l'idea che c'è alla base, però è un concetto amplissimo che in qualche modo va chiarito di volta in volta a seconda di quello che è l'applicazione particolare. Grazie. 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 Grazie.